18 ordinanze di custodia cautelare in carcere per traffico e spaccio di droga, una delle quali per Salvatore Puccinelli, alias Totore Straccetta, 55 anni e capo dell'omonimo clan camorristico del rione Traiano di Napoli. Le indagini condotte dai carabinieri del comando provinciale di Pescara con i colleghi di Napoli sono state coordinate dalla direzione distrettuale antimafia dell'Aquila. Puccinelli dal 2009 era sottoposto a regime di sorveglianza speciale con obbligo di dimora a Montesilvano dove aveva trasferito la sua residenza insieme a moglie e figlio. Con loro aveva messo su un'organizzazione con capi e gregari incaricati di reperimento, detenzione, trasporto e cessione di grandi quantità di cocaina acquistata a Napoli e destinata a tossicodipendenti delle province di Pescara e Teramo. I militari hanno messo in evidenza lo spessore criminale dei soggetti coinvolti che non sono semplici spacciatori ma esponenti di spicco di un sodalizio organizzato. A carico di Puccinelli c'è una sentenza di condanna per associazione di tipo mafioso, pena definitiva con scadenza nel 2051 passata in giudicato e sospesa per le precarie condizioni di salute dell'uomo. L'indagine è cominciata a seguito di un'attività investigativa dei carabinieri di Teramo che ha consentito di ricostruire e documentare come il gruppo operante in quella zona fosse sottomesso a quello smantellato oggi. Anche su Teramo secondo i carabinieri il capo indiscusso era Puccinelli. L'operazione di oggi dichiarano gli investigatori pone un argine al tentativo di infiltrazione della malavita campana nella provincia abruzzese in particolare per quanto riguarda il traffico di sostanze stupefacenti.